Strada stretta, auto a forte velocità ed ora, per via di alcuni lavori di ristrutturazione, pericoli continui per chi transita in via Fanella Fano. Dal mese di settembre, infatti, è stato posizionato un semaforo all'altezza di un cantiere per regolare il passaggio alternato dei veicoli e, a causa della riduzione della carreggiata, oltre a rendere più difficoltoso il transito, si creano disagi per i residenti preoccupati anche per la loro incolumità. L'incidente che c'è stato sabato e che ha coinvolto anche la mia autovettura, che era parcheggiata però regolarmente, ci fa capire che la situazione è di grande, grande pericolo. Io ho già mandato all'amministrazione comunale il 3 di ottobre una mail dove spiegavo la situazione perché da subito noi abitanti abbiamo notato la pericolosità della situazione. Mi era stato promesso, se vogliamo, che il 31 di gennaio non sarebbe stata data la deroga di quella grata che occupa la carreggiata, proprio per la difficoltà della viabilità. Siamo a marzo, ancora il semaforo è presente e, tra l'altro, in questo momento i lavori sono fermi, quindi se anche durante i periodi di inattività il cantiere potesse togliere la grata, noi potremmo respirare. E lo dico proprio per una questione di pericolosità, perché sabato la macchina della mia vicina di casa è stata praticamente sbalzata sul mio marciapiede e io ho aperto il portone e me la sono trovata davanti e dovete pensare che due ore prima io e una mia amica parlavamo lì tranquillamente, quindi diciamo che si è sfiorata la tragedia. Infatti io vi ho chiamato e vi ringrazio per la vostra disponibilità perché veramente siamo arrivati proprio al culmine della pericolosità. Cantiera parte, lei pensa che questa strada sia più in sicurezza a senso unico? Allora sì, secondo me sì. Tra l'altro l'avevo chiesto anche già soltanto per i lavori perché mi avevano detto che non era possibile chiuderla, quindi almeno in questo frangente metterla a senso unico. La via è molto stretta, io capisco che ci abitiamo tante persone però passano macchine, passano biciclette, passano passeggini, passano a volte anche carrozzine con persone anziane, la via è stretta. Noi purtroppo siamo una via particolare, non abbiamo garage perché sono case vecchie, la mia casa è dei primi del Novecento, siamo così a parcheggiare da un lato dove è possibile e ovviamente la strada si restringe. Poi tra l'altro oggi non so per quale motivo ci sono anche auto parcheggiate in divieto di sosta, qui la situazione è veramente insostenibile e poi per tanti altri motivi, nel senso che poi le macchine si fermano, c'è rumore, c'è anche puzza di smog, ho fatto presente anche all'ufficio ambiente ma non ho avuto risposta e questa è la cosa che più è frustrante e umiliante per un cittadino. Il mio appello va anche ai miei concittadini, ai miei concittadini se potete non passate in via Fanella, se potete avere altre alternative, se ci passate fate i 30 perché qui le macchine passano a velocità altissime, se vedono il semaforo verde sembra un rally, non passate con il rosso perché anche stamattina una macchina è passata con il rosso e poi se stazionate spegnete il motore, non lo so, io sono sei mesi che non apro le mie finestre che sono là perché l'aria è irrespirabile. Quella è una cosa che al limite potrei anche tollerare però guardate un attimo come è la situazione, cioè quelle macchine non passano e quindi è una cosa veramente disastrosa e ormai è insostenibile. Sei mesi sono tantissimi, noi, parlo anche per i miei vicini, non siamo più disposti a tollerare una situazione del genere perché veramente ne va della nostra incolumità.